Per questo 2012 abbiamo pensato di fare un calendario un po' particolare, un calendario che ci raccontasse della nostra cultura e abbiamo voluto in qualche modo anche rendere partecipi tutti i nostri scalatori sponsorizzati che fanno parte della grande famiglia alla sportiva, di renderne partecipi proprio di questa cultura alpina. È stato anche bellissimo vedere i nostri atleti così contenti, così entusiasti di prendere parte a questo progetto in un modo così naturale, li abbiamo visti sorridere, abbiamo sorriso tutti insieme. Oggi mi ho fatto fare il casaro, ho fatto il formaggio, l'ho mangiato anche un po' e mi sono divertito un sacco. Guardate come sono vestito, bellissimo. Io ho fatto il burro oggi, mi hanno fatto battere la pigna, comunque abbiamo anche trovato il tempo di stare insieme, di arrampicare, di godere di questi bellissimi prati. Io ho avuto un po' dei giorni qui in Valdipiemme con la squadra della sportiva e ho avuto molto interessante, abbiamo fatto un tipo di tradizionali italiani, come fare il nostro formaggio, con il cheese, con i miei, 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 e ho provato un montenegro, un vino, un piaccio, un piaccio, un piaccio, un piaccio, un piaccio. Sette! 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 Grazie a tutti Grazie a tutti